torniamo a parlare del caso di Viareggio della signora che ha investito il proprio scippatore questa volta in compagnia del noto avvocato Antonino Polimeni che è piacere di essere anche un amico per cui l'ho subito coinvolto su questo dibattito per quelle che sono le ripercussioni digitali come possiamo valutare da un punto di vista social commenti stampa come possiamo inquadrare come possiamo valutare ciò che sta avvenendo in questi giorni ciao Fabio grazie grazie di avermi invitato c'è un tema di base i social network rispecchiano esattamente la società quindi all'interno i social network che ovviamente sono ormai il principale canale di informazione della gente perché le notizie le persone le acquisiscono ormai per l'80% il 70% c'è un interessantissimo report di We Are Social l'ultimo proprio sull'Italia che dà dei numeri incredibili sulle fonti di informazioni tramite social informazione tramite social network sui social network come dicevamo c'è tutto ci sono tutte le persone e rispecchiano completamente la società quindi una notizia del genere piazzata all'interno delle varie piattaforme dei vari social network ovviamente scatena da una parte una viralità incredibile e dall'altra parte purtroppo una serie di una serie di commenti e di reati ma di questo ne parliamo anche a breve quasi senza senza precedenti soprattutto purtroppo quando c'è di mezzo un un immigrato una veloce parentesi nell'intervista precedente che potete trovare sul canale poco tempo fa abbiamo intervistato anche un avvocato penalista che configurava il reato sia dal punto di vista della signora che dal punto di vista anche dello scippatore ma andando a guardare andiamo a guardare il reato possibile commesso da chi commenta e qui la pena che ne sarebbe conseguita andando a guardare le statistiche e i commenti è evidente che il 99% delle persone hanno commentato senza aver fruito l'informazione non l'hanno guardato il video hanno visto solo i primi secondi commentando con qualche cosa che letteralmente è privo di senso perché non l'hanno proprio nemmeno sentito no? è curioso sì tant'è che molti giornali tendono a non inserire all'interno del titolo la notizia in sé perché altrimenti la gente non apre la notizia la gente non legge però Fabio potremmo parlare di questi argomenti dovremmo fare una live per ogni mini argomento questo è un altro dei grandi problemi di questa di questa società la gente è superficiale e secondo me anche questo non riguarda l'era dei social dove tutto sicuramente è più veloce ma è sempre stato così forse la gente leggeva gli strilloni fuori dalle dalle vicole e basta oggi chiaramente tutto questo è molto più veloce c'è c'è molta c'è molto c'è un bombardamento di informazioni veramente importante soprattutto si vive in un mondo digitale che viene sempre più polarizzato verso quello che noi pensiamo parliamo chiaramente vorrei chiederti quali sono i possibili reati che si configurano qui proprio in termini legali aggiungo solo un'opinione penso che comunque ci sia stata una specie di sdoganamento di certi temi sia per il vento politico ma soprattutto perché probabilmente un tempo una cosa del genere potevi pensare ma andavi al bar c'era un opinion leader mettiamolo riconosciuto la comunità per cui tanto folle non poteva essere e ti diceva ma che cacchio dici oggi invece online ognuno trova trova la propria nicchia dove c'è qualcuno che ti dà ragione in realtà se uno una cosa del genere la diceva appunto nel cortile del paesino gli dicevano guarda hai perso un'occasione per tacere e questo è un punto molto importante perché chi esalta comportamenti illeciti e nel caso specifico della signora non c'è dubbio che si tratti di un comportamento illecito quindi l'atto di esaltare un fatto un comportamento illecito configura il reato di apologia oppure attenzione il reato di istigazione di istigazione questi due reati molto simili hanno una differenza che sui social può veramente fare cambiare cambiare le carte in tavola ovvero l'istigazione è un'apologia con una minore capacità di influenzare i soggetti a cui è rivolta ora ti faccio una domanda nel momento in cui io commento una notizia che capacità ho di influenzare gli altri dipende chiaramente dalla mi do anche la risposta che ti ho fatto e dipende dal mio ruolo e dipende anche dalla viralità della notizia quindi mentre prima al bar e in piazza probabilmente sicuramente si trattava di istigazione eventualmente se volevi proprio andare a configurarlo come reato ma chiaramente erano reati minori e non c'era nessun tipo di non erano perseguibili lo erano ma non erano perseguitati diciamo probabilmente su internet cambia tutto cambia tutto perché anche l'ultimo degli scemi scusami ma io sono molto di parte il resto uso un linguaggio appropriato per non per non usarne altri ha la stessa voce in capitolo alla stessa esposizione non voce in capitolo all'interno di un commento a una notizia degli altri perché magari io se scrivo qualcosa all'interno del mio profilo quello resta confinato ai miei ai miei follower o comunque ai miei amici se parliamo di facebook ai miei contatti se parliamo di linkedin nel momento in cui lo commento sotto una notizia pubblica ha una potenziale diffusione enorme e quindi è molto più provabile faccio una domanda a questo punto che mi nasce subito ho fatto un video ho fatto 300.000 visualizzazioni tutte persone commentano ha fatto bene lo farei anch'io io l'ho picchiato non lo so una cosa del genere quindi queste persone qui sono correlabili sono cosa? si stanno esaltando fatti comportamenti illeciti cosa rischiano? e quindi fino a 12 anni di carcere ovviamente non succederà mai in Italia cerchiamo di rimanere con i piedi per terra però insomma la fedina penale sporca è un qualcosa che ti preclude poi tantissime altre possibilità nella vita quindi probabilmente è necessario è necessaria un'azione per far capire a queste persone che scrivere all'interno di un commento non equivale probabilmente a fare un commento al bar commento social rimane scritto a una possibile diffusione enorme rimane scritto con la tua foto con il tuo nome nella maggior parte dei casi poi ci sono alcuni account invece che vengono aperti in maniera completamente anonima e lì è molto più difficile perché per andare a individuare effettivamente chi è bisognerebbe andare a controllare l'indirizzo IP e se c'è una VPN anche lì dove c'è la conversione dell'indirizzo IP dal tuo a quello della VPN questo però è un fatto curioso tanti degli utenti che mettono questi commenti di fatto sono profili nascosti senza foto senza contenuti user 1,2,3,4,5 come se non avessero cioè e qui torno sull'aspetto sociale non hanno il coraggio di fatto di ciò che dicono o lo fanno con malizia o non sono stati in grado di aprire il profilo perché uno dei rischi è che hanno fatto avanti, avanti, avanti non ci ho pensato io penso che nella maggior parte dei casi potrebbe esserci anche questo beh c'è un altro tema di cui si potrebbe parlare per ora che è il tema dell'analfabetismo funzionale degli utenti sulle piattaforme sui social è molto difficile se devo essere sincero riuscire ad andare a identificare una persona che ha un profilo anonimo è molto difficile e per come funziona oggi il meccanismo e il flusso all'interno delle procure è praticamente impossibile quindi o sei un terrorista per cui effettivamente attivano delle procedure un po' più importanti perché il fine non è bloccare te il fine è cercare di non far uccidere con una bomba centinaia e centinaia di persone ma sulla singola diffamazione sulla singola istigazione purtroppo non lo vorrei mai dire ma purtroppo gli strumenti sono veramente pochi lo strumento dovrebbe darlo però la piattaforma che dovrebbe non ti dico imporre una identificazione perché notizia particolare è importante nel mondo di internet ma il diritto all'anonimato su internet è uno dei principi fondamentali della carta diritti è l'uomo quindi per me che sono sempre stato un fan entriamo su internet con la carta identità perché è giusto che ognuno si prende le sue responsabilità secondo me però effettivamente Fabio bisogna fare un ragionamento un po' più ampio perché noi lo diciamo da privilegiati da cittadini italiani ci sono alcuni posti del mondo dove l'hanno Corea del Sud per fortuna del Nord è ancora un grande un grande valore è ancora un grande valore e quindi c'è proprio il diritto all'anonimato di internet è incredibile che sia così ovviamente noi non possiamo capirlo perché viviamo in uno stato civile comprendo la razza esatto questo è il motivo e quindi sostanzialmente chi è che rischia? rischia chi mette il suo nome il suo cognome e in maniera davvero deficiente va a commentare secondo me non capiscono che si tratta di un'istigazione di un'apologia ma esaltare un comportamento illecito è un reato è un reato semplicemente un reato e se non lo capisci sei stupido e internet oggi dà la possibilità di avere una così grande diffusione effettivamente a tutti il caso della signora di Viareggio poi è molto particolare perché c'è più un tema di razzismo in questo che è quello di reale tutela l'autogustizia il razzismo si ma nato giustizia che comunque avrebbe reso molto meno virale probabilmente la notizia se non ci fosse stato un tema il caso della motosega Catania che insegue quella è bellissima quella è un po' più particolare il comportamento di utenti è diverso non sono solidali a grande massa ma anche al telegiornale le persone di Viareggio intervistate ti dicono sempre stata una persona per bene salutava tutti come tutte le volte che ci inseri archivio l'avrei fatto anch'io la capisco non entriamo in un discorso sulle colpe ovviamente si tratta di un omicidio non c'è dubbio ed è giusto a mio parere che venga punito anche in maniera esemplare perché altrimenti se apriamo abbiamo una possibilità di discamparla da un omicidio così efferato per vendetta diventa anche delizio d'onore diventa si apre un mondo dove non vogliamo vivere probabilmente la signora avrà avuto i suoi pensieri avrà avuto il suo momento il suo raptus non sarà stata magari aveva bevuto qualcosa non voglio entrare era esasperata magari gli era già successo il giorno prima il giorno ancora prima non voglio entrare nelle ragioni sicuramente un omicidio noi non parliamo dei fatti e sicuramente quello era uno scippatore povero probabilmente era un povero era un povero ancora prima di essere un immigrato era un povero probabilmente ma non voglio entrare nel fatto dove io chiaramente ho le mie idee chiare ma ognuno può avere le sue idee parliamo esclusivamente dei commenti rischio digitale rischio digitale ed è di questo che volevo su questo che volevo parlare niente quindi la situazione direi che è abbastanza chiara i social hanno il diritto anzi per rispettare un diritto possono mantenere gli utenti anonimi gli utenti non anonimi in particolar modo quando vanno a fare un contenuto di questo tipo si espongono a un grande rischio che però di fatto in Italia risulta per lo più impunito te lo dico molto velocemente che il tempo sta scadendo in realtà un utente anonimo può essere anche rintracciato rintracciato tramite indirizzi IP però ovviamente devi andare a richiedere alla piattaforma l'indirizzi IP e la piattaforma ammesso che non ci sia una VPN la piattaforma ti restituisce l'indirizzi IP e se si tratta di un indirizzi IP personale quindi il cellulare invece no è mio figlio non è una foto di un bambino di un bambino nudo attenzione è in costume oddio è in costume al mare polimeni c'ha le foto dei bambini nudi sul cellulare oddio mi sono perso stavo dicendo che si può fare perché l'indirizzi IP chiaramente meta ce l'ha meta ce l'ha bisogna attivare un flusso di indagini un po' più impegnativo che per quanti reati ci sono oggi qui c'è il tema del fatto che non ci sentiamo sicuri perché la giustizia non funziona perché intasata questo è vero questo è un altro tema di cui bisognerebbe parlare Antonino ti ringrazio tantissimo il tempo sta scadendo e quindi per altre domande vi ho dicendo non abbiate paura che Antonino è a nostra disposizione grazie mille grazie a tutti ciao ciao grazie ciao 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 ciao